Oggi è una bellissima giornata, una convenzione che rafforza il rapporto tra la Federazione Aviana Occhia e l'Istituto del Credito Sportivo, le società avranno sicuramente dei benefici e questo va a vantaggio di tutto il movimento, ma la stessa federazione sta sia progettando che tentando di studiare qual è la prossima offerta da chiedere agli amici del Credito Sportivo, questo è molto importante per noi perché il movimento è in crescita, noi abbiamo numeri maggiori sia per affiliazioni sia per tesseramenti, abbiamo molte attività e quindi col Presidente Andrea a Bodi sono sicuro che troveremo delle intese magnifiche per portare il luogo italiano al livello che merita.